Censura. Buongiorno al dottor Nicola Ludovico che ha tenuto nelle sue mani tanti bambini. Buongiorno a tutti, è vero. Quanti bambini hanno fatto nascere. E stamattina mentre eravamo a terra mi ha detto che invece un ruolo importante, oltre i medici ce lo devono avere, ce l'hanno ancora le ostetriche. Sicuramente sì, è un patrimonio di cui l'Italia vanta sicuramente un primato che è stato leggermente adombrato negli ultimi decenni, ma credo che la figura dell'ostetica, non solo come professionale, ma anche in senso sociale, di un'importanza notevole che va secondo me risottolineato e credo che in futuro le nostre giovani ostetriche svolgeranno un ruolo, non nuovo, diverso e forse secondo me anche più importante. Ti abbiamo invitato per la lunga esperienza che hai, sia come essendo stato anche primario, prima ancora tanti anni, poi ci dirai quanti anni sono che hai fatto il lavoro allo stadio di Giuliano, ma poi per aver ristrutturato in maniera, con dei tagli, che magari uno spesso critica, i consultori in provincia di Teramo, operando un taglio netto portandoli da 18 ad 8. Con polemiche credo che ci furono in quel periodo. Credo che, anche se ho letto recentemente un collega che riprendeva quella che era la mia formazione, la definizione che io diedi, che ripresero un po' tutti i giornali, noi non stiamo chiudendo 10 consultori, ma ne stiamo aprendo 8. Cioè, veri, fatti bene, come si deve. Parliamo, comunque tu, completa, perché poi dobbiamo parlare di questa polemica sui punti nascite che tu hai sicuramente seguito. Sì, non solo ho seguito, ma credo non solo per il tipo di professione, la mia attività, ma soprattutto come cittadino, perché in questo momento, secondo me, sta succedendo qualcosa di estremamente positivo per la nostra regione. Mi devi concedere di fare una breve storia che tu poco fa accennavi, perché sembrerebbe, anche se anche Paolucci l'ha detto, il nostro assessore della sanità, eccetera, che, appunto, si parla di tagli, di chiudere, anzi, di chiudere dei punti nascita. Allora, io credo che, utilizzando un numero, 500, cioè 499 si chiude, 501... No, è evidente che non è questo il criterio che guida la nostra assessore regionale. Tu invece avevi trovato un altro numero in un altro organismo molto più importante. Perché la storia... Al 1990, all'incirca, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità fece uno studio multicentrico, se questa poteva essere un'altra domanda, chi l'ha fatto, multicentrico, cioè si fece questo studio che è durato diversi anni e non riguardava la medicina in generale, riguardava, appunto, il punto nascita. E questo studio era finalizzato a cercare i punti di debolezza nei punti nascita e, soprattutto, di avere un quadro che valesse per tutta l'Europa. Negli Stati Uniti funziona diversamente. Comunque, lo studio fatto a Ginevra riguardava l'Ità. Che cosa venne fuori da questo studio? Vennero fuori tantissime cose. Una in particolare è che un punto nascita che ha più di mille parti ha un indice di sicurezza, sia per la madre, sia per il neonato, molto più alto se il numero dei nati in un anno è inferiore a mille. Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi fu individuato questo numero. Qualche anno dopo fu portato in Italia questo studio, in parte, nel senso che si usarono alcune parti, perché, per esempio, veniva detto anche il personale che doveva essere addetto, come doveva essere organizzato. Lo stesso modo è più approfondito. No, no, è importante perché, per esempio, non era concepibile che ci fosse una pronta disponibilità che divideva le 24 ore in quelli che nascono di giorno e quelli che nascono di notte. Cioè, era richiesto o consigliato un'equip, o più equip, che funzionassero sempre al massimo, sia di giorno che di notte, di domenica, natale, a Pasqua. Invece, in molti ospedali, purtroppo è andato avanti per, e non siamo a parlare dell'Italia, non dell'Abruzzo, avanti con un sistema, con un istituto, si chiama, della pronta disponibilità. Cioè, non c'è il medico, che però viene chiamato. Non lascio immaginare in un'emergenza molto particolare. Questo è inconcepibile, in realtà, vero? Sì, sembrerebbe inconcepibile, però siamo andati avanti. Ma quando viene recepito questa parte qui, ed era il momento in cui, per la prima volta, anche perché veniva dalla gente questa chiarificazione, erano stati introdotti, così banalmente ricordo, alcune tecniche diagnostiche per alcune malattie legate a alterazioni cromosomiche, la minocente si sta parlando, che comincia a diffondersi alcune tecniche, come l'ecografia. Insomma, intorno al 92, l'Italia rivede un po' questo numero, mille, e lo trasforma in 500. Ecco dove nasce allora. Questo 500, quindi è tutta una cosa italiana, come punto di interesse. Sì, nel senso che forse si vide che in realtà era, come erano organizzati i punti nascita, era più compatibile arrivare a mantenere punti nascita di 500, che forse era più adatto per l'Italia, per il tipo di personale, però sono passati dal 92 a 23, 24 anni. Quindi questo era un primo aspetto. L'altro aspetto che è risultato evidente, ma a proposito dei 25 anni, della fine della guerra, 70 anni, della fine della guerra, di quello che cambia proprio nel rapporto del, e qui mi aggancio subito all'idea, al concetto dell'ostetica, cioè l'ostetica era veramente la depositaria del parto, o meglio della gravidanza e del dopo parto. Perché se no il parto sembra un fatto staccato. Questa figura è stata man mano un po' emarginata, sì. Quindi perché il parto, che tra parentesi, fino a prova contraria, la gravidanza non è una manattia, esistono manattie in gravidanza e manattie della gravidanza, ma la maggior parte sono fisiologiche. Cioè non stiamo parlando di manati, ma di donne sane. Beh, a questo punto viene medicalizzata la gravidanza e soprattutto il parto, il che significa che una donna in gravidanza, in perfetta salute, con l'ipotesi di un parto, entra nell'ospedale attraverso il pronto soccorso. Viene gestito dal medico che si interessa, giustamente, il medico significa che si interessa delle patologie, di un fatto fisiologico. E la figura dell'ostetica viene mantenuta man mano ridotta e allontanata. Adesso non è proprio così, nel senso che l'ostetica ha sempre svolto e continua a svolto. Un fatto patologico addirittura. secondo me, eh sì, bravo, ecco, è stato medicalizzato. Medicalizzato. Cioè quindi l'aumento del numero degli esami da fare, controlli più ravvicinati e il tutto sfociava in un appunto, nel punto nascita, confuso con punto nascita con il reparto di ostetricia e ginecologia, perché come se fosse la stessa cosa. e a questo punto ricoveri, che attualmente sono un paio di giorni dopo il parto, ma addirittura anche 24 ore in caso, e dopo di che la mamma che torna a casa, torna a casa e sembrerebbe che è finito. Quindi sembra che non ci sia un prima. Una parentesi. Sì. La vita normale, poi un parto e poi ritorna a casa. A casa normale, come se non è successo niente. Non solo, ma... Che succede? È fatto uno studio. Che succede in Olanda, per esempio? In Olanda c'è la ostetrica Cicogna. Cicogna, certo. È bello quello. Ma là è un'organizzazione molto diversa, molto bella, che fa parte anche della loro... Con la puerpera. Certo. Non solo, ci va a regolare a noi, ma guarda che è successo anche qua, una volta lo facevano, qualche anno fa. Poi i meccanismi, le regole di vieti hanno sempre ridotto. È stata una battaglia che come consultori familiari abbiamo sempre cercato di portare avanti. Tante professionalità ostetriche sono all'interno dei consultori e quindi la possibilità di arrivare al parco. Non lo dico così per inciso, ma il 70% dei parti che avvengono in Italia, il 70% forse anche qualcosa in più, sono gravidanze eseguite nei consultori familiari. questo non vale tanto per l'abbruzzo. Vedo un po' una cosa, ma avevi detto prima che le gravidanze, tornando sempre all'Olanda, scusa perché mi ha impressionato un'altra cosa, oltre alla ostetrica cicogna che accompagna la mamma quando esce a casa perché si troverà un sacco di problemi pure da risolvere, insomma, quindi... si troverà e non finiscono grazie all'ostetrica cicogna, perché non solo si troverà di fronte a dei problemi enormi che sono ancora più grandi con l'organizzazione che abbiamo noi della società, non dimentichiamoci che fino a qualche decennio fa le nostre strutture familiari prevedevano la nonna, la mamma, la zia, la sorella della mamma, insomma, cugine, eccetera, quindi in realtà la donna che tornava a casa trovava un ambiente che contribuiva a superare quel primo impatto perché soprattutto nelle primi gravide e soprattutto se come dovrebbe essere come è sempre stato il marito che sta fuori una donna che improvvisamente si trova di fronte a delle situazioni veramente difficili ecco che questa figura di ostetrica cicogna diventa veramente importante ma attualmente in Italia la situazione è cambiata non è che abbiamo le mamme, le zie e tutti quanti non è che il lavoro è sotto casa come poteva essere l'artigiano che poteva pure risalire a dare una mano alla moglie c'è un'organizzazione del lavoro completamente diversa in un momento di difficoltà perché quando si parla di crisi di questo periodo difficile non domandichiamoci che va a infundire anche la gente fa i figli? no appunto prima di questo quella cosa che mi hai detto che addirittura in Olanda poi torniamo anche in Italia dove sei nato tu in ospedale o a casa? io sono nato a casa ecco io sono nato a casa cioè la c'era solo l'osterrica a casa cioè solo l'osterrica certo ma in Olanda funziona proprio così c'è questa novità se vuoi puoi partirei poi in ospedale no ma si può fare anche il passo si torna e parte a casa con l'osterrica così io ho capito sì però là è un'organizzazione diversa cioè per esempio c'è un tempo di allettamento che dal momento in cui tu vedi un rischio che non supera i 15 minuti cioè significa che se ammesso che ci sia una crisi in 15 minuti la lei ma al di là del fatto loro possono scegliere in Olanda cioè la cosa bella è che il parto in ospedale costa di più che il parto fatto a casa ti pagala si paga aspetta si paga ma viene anche detratto come l'asilo nido si paga in Olanda ma lo scarichi come dire certo hai dei vantaggi fiscali enormi ma loro sono arrivati ancora scusi fammi finisco qua perché è talmente affascinante è bello questo però io ho fatto anche di domande poi sì finisco questo perché c'è un'altra cosa che succede in Olanda le donne accedono facilmente se non in modo quasi automatico al part time e sai come hanno il lavoro per quanto riguarda il lavoro invece qua da noi dicevi anche me hai detto una cosa orribile che devi firmare una donna quello succede prima che tu purtroppo abbiamo avuto dei casi finiti anche in tribunale di alcuni datori di lavoro che pretendono di firmare un folli in bianco che non avrà la gravidanza la gravidanza è una lettera in bianco di autolicenziamento ma questi sono aspetti che sono conosciuti perfettamente a Lanciano sei nato tu con l'ospedale a Lanciano certo l'ospedale di Lanciano quando si partiva a casa ma non così brave che potevano far fronte a qualsiasi complicazione oppure poi c'era anche il medico ovviamente non che stava su ogni parto ma il medico c'era c'era anche l'ospedale c'era anche la distinzione che secondo me se succede qualcosa ti sto a dire per questo motivo l'abbiamo portato e tutti ai tuoi tempi nostri ci stava l'ecografia no no non si vedeva niente come stava messo il bambino può dare esisteva tutto quella che si chiama semiotica della gravidanza per cui quelli bravi lo capivano non ci mancherebbe ma con l'ecografia si vede tutto sì ma quello è un aspetto secondario cioè l'ecografia è un supporto hai risparmiato ci aspetto le luci ci aspetto come se fosse una sala parto sempre si fa no quello che volevo dire è che io ti volevo far parlare di parti però mi sono venuto in me di 10 cose tu devi rispondere a tutte le domande sì te le faccio molto volentieri a tutte vero a tuttissime poi andando completo questo che volevo dire è che che già ve l'ho detto scordate no può succedere interrompo scordate che quindi avendo una facilità di accesso una normalità non è facilità al part time come funzionano gli asili nido benché si scaricano a tutto il costo in Olanda e dal prima elementare che poi è sempre gratuito ma i nidi sono invece a pagamento anche se poi vengono detrati ci sono dei vantaggi tali che è immaginabile no è come se venissero pagate loro sai che fanno le mamme mandano i bambini solo tre giorni alla settimana e gli altri tre e gli altri quattro giorni compresa la domenica stanno con i figli cioè qual è la ricchezza di quello è il part time è quello di stare con i figli non di fare part time per non fare cioè per non è affascinante quindi ha previsto il fatto che la donna possa restare col figlio è bellissimo è bellissimo deve essere una situazione allora poi ci torniamo intanto fammi dire queste domande che mi sono di me allora due coppie una coppia con tutti e due in grado di poter fare i figli va bene ma non vengono che sta accadendo tutti e due in grado si parla di infertilità di coppia cioè no sono fatto degli esami sono tutti e due in grado di procreare perché non vengono a volte si allunga il periodo nonostante che molti provino e riprovino certo perché fortunatamente non siamo ancora diventati degli androidi poi ti potrei citare la famosa frase ma va bene scusa secondo te gli androidi sognano pecore elettriche no dai il senso è questo io ti ho fatto la domanda non che uno e due esteri non arrivano i figli certo perché è normale che succeda qualcosa del genere perché una donna emette un ovulo al mese diciamo quindi è fertile per circa 70 ore dopo il concetto e quindi significa che in un anno una donna è fertile all'incirca 700 ore quando? 700 ore? in un anno si riesce a sapere quale è il periodo? il modo migliore è quello che abbiamo usato per milioni di anni cioè avere il desiderio di avere un figlio però hai anche detto una volta che quando ci arriva l'ansia che non riesco ad avere i figli e sono agitati quello è un modo per non averli che bisogna perché comunque vogliamo e non ci possiamo girare intorno abbiamo non esistono le parti staccate ma esiste anche una testa l'emozione la vita lo stile di vita e quant'altro e ti dirò di più qua mi fermo perché l'organizzazione mondiale della sanità sempre là andiamo che organismo principale ottobre 2014 ieri praticamente ieri ha definito il placebo un farmaco il placebo è quando spiega tutto dai qualcosa che non ha nessuna l'acqua fresca l'acqua fresca benissimo però gli dici che funziona quello viene in qualche modo cioè la tua testa lo fa funzionare per quello il problema che ha ed è eccezionale è considerato un farmaco quindi la novità è dichiarato non io ma infatti su tutti i foglietti il nome dei medicini c'è scritto placebo no non c'è scritto placebo è praticamente lo zuccherino vabbè insomma voglio dire che si può risolvere in questo modo quando c'è una crisi tu gli fai una puntura per esempio di acqua sì però gli devi dire che gli stai facendo una puntura cioè fagli andare il problema che ha e quello mentalmente è condizionato non succede a 100 persone per l'amore del cielo va bene ci troviamo tra poco perché ti devo domandare poi potrò che ti anticipo se nella perché sempre di chi dice quando è una colpa di chi è la colpa del marito della moglie si può purare non lo dire adesso dopo dopo la pubblicità però io ho una cosa me la devi far dire che penso della battaglia che stanno facendo i quattro ospedali abruzzesi quattro sono quattro per la chiusura abruzzesi ah i quattro sì sono buona uno per provincia guarda caso ma ci torniamo dopo pubblicità sì questo ospite il dottor Nicola Ludovico ci ha un po' ribaltato la domanda che gli avevamo fatto e cioè del fatto che quando c'è la possibilità che una coppia non può avere dei figli se si può accertare di chi sia tra virgolette responsabilità e lui invece mi ha detto ma questa è una parte minore del discorso più generale perché oggi in genere si cerca di farne meno possibile di figli era così domani in circa grosso modo cioè o comunque abbiamo creato delle condizioni per cui indubbiamente l'indice di natalità è in caduta libera nel senso che ci sono veramente delle difficoltà prendete una coppia giovane come può scegliere di mettere al mondo un figlio pensando un attimo a quello che succederà il giorno dopo quando torna a casa col bambino e dopo qualche mese quando lo dovrà dare all'asilo nido scusate ma che è un problema che non credo che sarà sfuggito che noi abbiamo un problema degli asili nido ma ce l'abbiamo in tutta Italia che si devono fare le liste o no sì e tanto per scappare dall'Olanda e andiamo in Francia un attimo dove guarda caso la natalità è in aumento ma c'è stata da parte del governo francese tutta una serie di presidi che vanno dal fatto non so se lo sapete ma a scuola i bambini in Francia il mercoledì non ci vanno il mercoledì a metà settimana perché perché il comune e questo non significa che la madre il mercoledì non può andare a lavorare soprattutto se sono bambini piccoli che succede succede che il comune di residenza mette a disposizione un elenco di persone che vengono pagati dal comune che vanno dai bambini nelle varie case o li organizzano per quartiere per caseggiato quello che ti pare piace e questo fa parte di un tipo di contributo che poi tu pagherai come adesso è terribile dirlo come il servizio di tari tassi e quant'altro una tassa certo cioè un contributo che tutte le perché ci sono pure quelli che non ce l'hanno i figli comunque si può appurare quelli che non hanno figli si può appurare che cosa accade cioè voglio dire c'è una visione che non è dato solo da non dobbiamo vedere la coppia come se vive in mezzo a un'isola deserta isolati vivono in una società che per quanto ci riguarda ma non certo perché siamo diventati cattivi ma c'è un'organizzazione tale per cui rende veramente difficile quello che è il percorso nascita che non nasce nel momento in cui uno entra nel punto nascita tanto per ma inizia da da prima e prosegue dopo e prosegue per anni dopo e quindi credo che per tornare a quello che era il discorso iniziale noi siamo in un momento veramente molto bello perché prendiamo coscienza e anche se il primo passo può sembrare così negativo quello di passare dagli attuali 12 punti nascita che ci sono in Abruzzo passare ad 8 ad 8 ad 8 e verranno chiusi 4 punti nascita che poi in realtà è un improprio parlare di punti nascita ma sono 4 reparti ostetrici e ginecologia che hanno anche una sala parta quindi già leggermente diversa uno per provincia in modo tale che anche ci sia una forma di dal punto di vista politico una subdivisione un gioco politico benissimo e questo però ci sono delle battaglie che sono portate avanti da comuni tipo Ortona altri pure fatti sì tutti qua sul Mona Penne e Atte sono arrivati quasi all'aggressione dicevo Ortona che per esempio hanno fatto delle magliette sì io voglio nascere ad Ortona io voglio nascere ad Ortona così immediatamente sembra che sia una cosa da condividere in realtà mi dispiace dirlo ma è una lotta o una battaglia di retroguardia perché il futuro non è nascere a Ortona o appena è come se l'aria o qualcosa potrebbe essere ma neanche lo è più comodo giusto a quelli che abitano intorno all'ospedale perché già se noi pensiamo ad Atri e Atri dovrebbe in questo momento essere il punto di riferimento per Roseto non è che andare da Roseto ad Atri è come andare alla casa quindi non si è capito perché Giulia Norma il giorno non c'è Giulia Norma non c'è va bene e questo è un altro aspetto di come si possono fare delle programmazioni ma queste programmazioni non possono anche non essere corrette o dare dei risultati erano stati valutati erano molti oppositori su questa frase che hai detto poco fa che quella contro i punti nascita nel senso di di retroguardia perché il futuro non è in questo senso tra parentesi si parlava mi pare che c'era proprio sul giornale questo orologio che ne facciamo te lo togli no dicevo se tu pensi a un'altra cosa perché noi abbiamo parlato di 500 abbiamo parlato di 1000 ma c'è un altro numero 2000 che è il numero di parti che in un anno per avere una terapia intensiva neonatale che non c'è a Teramo che non c'è a Teramo all'incirca 900 sì ma adesso c'è il potenziamento di Teramo è stato annunciato oggi sul giornale potenziamento delle strutture che non significa il potenziamento dei parti perché per esempio è stato potenziato anche Santomero e anche Santomero attualmente ma i dati del 2013 2014 parla di 850 parti in un anno forse qualcuno in più ma adesso abbonami questi numeri 900 Teramo ma 900 parti li fa anche Lanciano scusa 900 parti li fa anche Vasto 900 parti li fa anche Sul Mona 900 parti li fa quando le faceva Giulia Nova quando c'eri tu? ma a Giulia Nova siamo arrivati vicino a mille poi man mano sono scesi ma dipende proprio dall'organizzazione dal fatto che si sono aperte nuove strade d'altra parte scusate ma nel 2014 2014 quindi non 400 donne Teramane vanno a partorire o meglio 300 nelle Marche 100 in altre zone pur di fronte al potenziamento dell'ospedale di Sant'Omero di Sant'Omero e il potenziamento indiretto che ha avuto non solo per le sale operatore ma anche per il personale che ha avuto dopo la chiusura del del punto nascita ma non era un punto nascita era un reparto di ostetrici c'è ginecologia c'era anche la pediatria poi ci stava l'urologia cioè il discorso diventa di che cosa la necessità di avere una programmazione tenendo conto dell'utenza questo è secondo me il discorso prima è spesso anche un altro concetto che chiudere il punto nascita non vuol dire poi abolire ostetrici c'è ginecologia e tutto assolutamente il nido abolire la pediatria che c'entra no 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 appunto siccome il genoma è andata a cascata cioè sì ma al dia di il genoma voglio dire per esempio l'ospedale di Atri che non c'è da niente che se va un bambino d'estate magari di notte nessuno lo può assistere e deve andare a terra ma lo sai benissimo ma secondo me tipo Atri che è quello che riguarda la nostra provincia è sempre stato ed è sicuramente uno degli ospedali meglio organizzati più funzionali no e sono stati sempre in primo piano per esempio sulla battaglia per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero quindi ci sono altre battaglie insomma da portare avanti ce ne sono veramente tante restando nello specifico potremmo allargare l'endocrinologia la diagnostica per immagini cioè se c'è l'ecologia si sta anche senza parti questo è volendo sì se c'è però una necessità qui ci vuole un osservatorio regionale che dice di che cosa abbiamo bisogno che vogliamo fare cioè nel senso che se tu hai in una provincia faccio esaspero una un diabetico credo che non sarà il caso di farci una diabetologia una diabetologia e viceversa se ne hai l'80% della popolazione diabetica forse non basta uno solo ma ce ne vogliono cinque cioè voglio dire l'osservatore l'osservatorio regionale ha il compito proprio di individuare le necessità e di rispondere a queste necessità cosa fa una domanda proprio di curiosità adesso perché sono nascene nove mesi e sette va bene otto è pericoloso? no no il limite è per poter nascere in sicurezza quindi senza la terapia i settimini che nascevano tranquillamente ma circa otto sì però scusa qual era l'indice di mortalità di vent'anni fa cioè permetti che l'abbiamo abbassato in modo pauroso grazie a tutto quello e lo sviluppo della medicina cioè voglio dire un conto è medicalizzare cioè esasperare trasformare la gravidanza come in una malattia ok e un'altra è quello che a cominciare dalla vaccinazione la possibilità di prevenire le malattie emolitiche del neonato hai detto tu quindi non una festa ma una patologia e viene interpretata così durante tutto il percorso proprio perché guarda nessun timore a dire che nel 2009 la ASL di Teramo ha deliberato un progetto che si chiama appunto percorso nascita che individuava che non è solo dentro l'ospedale o dentro il punto nascita ma che parte da fuori e a questo punto ci sono i distretti sanitari di base ci sono i consultori familiari cioè voglio dire una donna che decide di entrare in gravidanza che è in gravidanza non è che deve andare a caccia ma deve trovare dei percorsi già fatti cioè lei non lo sa ma tu glielo devi dire a cominciare dal medico di base appunto ai medici dei distretti medici le ostetriche che non ci devono andare solo dopo ma probabilmente devono parlare e questo sarà la rivoluzione mi fermo qua perché ti voglio dire una cosa è già stato fatto questo in Italia Poggi Bonzi in cui è stato siamo in Toscana in Toscana vent'anni fa circa hanno trasformato un punto nascita favoloso da cominciare dall'ingresso dove la donna in gravidanza entra e non vede neanche un medico trova l'ostetrica che l'accompagna certo se ci sono delle patologie ma questo lo devi già sapere prima o non è che facciamo indovinare all'ultimo momento cioè uno che arriva a nove mesi e ha dei problemi lo devi sapere prima e questa è la forza del percorso nascita beh non solo trova la sua camera con una camera una camera non un letto per autonoma sta solo da sola da sola con un'altra camera in cui ci sta il marito la madre chi vuole ah ospiti ospiti con una sala travaglio con una sala parto con una nurseri tutto questo c'è per una appoggi bonzi appoggi bonzi tant'è vero che da Firenze si vanno a prenotare da prima e una di Ferragro l'hanno fatta in altre parti visto il successo giustamente di questa iniziativa perché evidentemente non è che tutti siano d'accordo che ne tutti hanno i soldi per farlo e lì fu fatto questo tipo di investimento che però l'ospedale è pubblico si 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 l'ospedale non è una clinica privata e quindi si prenotano per andare lì da Firenze si perché ovviamente ci sono delle condizioni in una gravidanza normale se lo vuoi chiamare alberghiere lo vuoi chiamare come atmosfera ed è gestito dalle ostetiche certo non è che il medico non ci sta ci sta ma per non per gestire una gravidanza normale non ti accogliere tutto un medico che dà l'idea insomma già di qualcosa che non va ma l'ostetica che si chiama la mammina la mammina la levatrice si chiama ha avuto un ruolo nella storia ma anche attuale e no guarda io sono un tifoso dell'ostetica ma scusa un tifoso di che? delle ostetriche cioè secondo me veramente sono potenzialmente forse una gran parte della risposta a quello che è il problema che nella riorganizzazione dei punti nasce scusa ma è normale fare si chiama ecografia office mica lo fa il medico lo fa l'ostetica perché abbiamo voluto medicalizzare medicalizzare nel senso che sembra quasi che sia monopolio del medico io ho avuto modo di dirlo anche qualche anno fa durante un congresso non è che lo sta di mo ed è riconosciuto ma è normale amministrazione si fanno i corsi perché noi abbiamo delle risorse ma non è che ci stanno solo le ostetriche ci stanno i medici ci stanno le ostetriche ci stanno le infermiere ci sta il laboratorio d'analisi ci sono le strumentazioni cioè una sinergia di queste forze può portare ad un punto nascita in cui sia tranquillo andare già andare permanere e ritornare questo dovrebbe essere io credo che sia il senso che vuole la regione in questo momento in questa prima fase di riduzione cioè così tanto spararlo ma perché noi non potremmo fare un solo punto nascita nella provincia di Teramo avere duemila parti quelle più o meno duemila parti in tutta la provincia di Teramo ci stiamo avvicinando e vent'anni che sono sempre duemila non è che è cambiato saranno a duemila e ducento eccetera però è sempre duemila potrebbe essere un solo punto nascita non un solo ospedale dividiamo queste due parole un punto nascita che munita anche di terapia intensiva nella Natale per esempio visto che lo standard è duemila è che abbiamo visto c'è un potenziamento infatti di Teramo ci sarà certo ma non c'è questa no c'era scritto anche dopo 41 anni a una faccia e meno male meno male ci hanno messo 41 anni per potenziare quella cosa e quindi questo comporta la chiusura di Atri anche legata a quello quindi sarà sì ma non la chiusura di Atri del punto nascita localizzata di Atri che ha 10.000 altre potenzialità esatto cioè ne Atri non è la chiusura anzi credo che avranno più spazio più personale per incrementare quelle che sono delle eccellenze che Atri ha già non è che le dobbiamo dare qualcosa magari a compensazione non c'è ma poi è un ospedale non era un ospedale cercato non ha mai fatto niente è un formidabile ospedale Teramo potenziata e torniamo magari a quel concetto da cui siamo partiti e cioè mille parti li farà adesso la maggiore sicurezza partendo dal numero che aveva fissato certo è talmente importante casomai mi vorrei dire che quindi si è fatto quello che si diceva allora cioè si chiudono per potenziare un ospedale o appunto nascere localizzato in un ospedale che diventa più sicuro rispetto a 4 che sono disseminati qua e là 500 sì però si dà il caso che però 900 persone hanno siamo arrivati al punto di partenza pur ragionando molto certo per questo si sta facendo insomma sì certo si deve fare l'ho detto se no perché ho detto che di retroguardia perché non può essere che così cioè noi vogliamo migliorare non attaccandoci a orpelli che erano logici per me ma che non lo sono più oggi casomai mi vorrei dire come cavolo può essere che un ospedale come Santomero non abbia nessun servizio di bus serio se io devo andare in ospedale a Santomero per me è più facile andare a San Benedetto passa da Albadriati ogni mezz'ora e ti dirò ancora di più c'è un unico centro che sta a Martinsicuro dove la mobilità è diventata attiva cioè negli ambulatori la gente da San Benedetto viene lì e questo va dato merito anche a una forma di organizzazione poi una cosa a te cara qual è oggi il ruolo dei consultori il ruolo dei consultori è sicuramente non solo come fatto storico ma lo ricordo perché ho avuto modo di vedere il filmato a Ginevra Organizzazione Mondiale della Sanità e quando si sta appunto parlando nel 92 di questo che dobbiamo fare mille parti qual è la sicurezza il percorso nascita eccetera si alzò il professor Benaggiano rappresentante dell'Italia e disse tutto quello che voi dite noi già ce l'abbiamo noi abbiamo i consultori familiari che erano stati istituiti nel 75 è vero quindi c'è stata una lungimiranza poi un po' per migliaia di motivi si sono persi però noi non ce l'abbiamo come struttura no ce l'abbiamo stavo dicendo oggi qual è il ruolo di un consultorio il consultorio familiare è un punto di riferimento con un facile accesso dove tu trovi la multidisciplinarità perché non è che ci sta solo l'ostetrico l'ostetrica c'è lo psicologo c'è l'assistente sociale cioè dove tu vai come in una famiglia e che ti possono aiutare come minimo a indirizzarti dove devi andare dove non devi andare qual è il percorso ma sicuramente hanno tutte le capacità per darti una mano e in questo momento secondo me c'è bisogno tanto di una mano cioè ti consiglia ti indirizza ti indirizza fanno prevenzione scusate ma i vap test giusto per capirci un attimo dove vengono fatti il consultorio che ti manda la lettera e dici guarda che tu devi fare questo ogni tre la diffusione per la prevenzione dei tumori del seno passano attraverso il consultorio il discorso della contraccezione per avere una gravidanza che tu desideri e non per caso passa attraverso i consultori perché ne facesti chiudere dieci oppure come ti venne detto ne facesti aprire otto perché ho diciotto complessivamente sì perché dieci di questi non erano consultori ci stava un solo o ci stava un'assistenza sociale apriva due giorni alla settimana cioè sperduto in un posto quindi non riusciva a svolgerlo la funzione la funzione invece in questo modo distribuiti quattro sulla costa e quattro all'interno coordinate tra di loro noi abbiamo avuto un programma al computer tra parentesi che Firenze la Toscana ci ha fatto i complimenti eh certo che metteva in rete tutti i consultori una visione completamente cioè insomma è successo tanto meno male che è successo però appunto credo che in questo momento fare lotte di retroguardia non serve veramente a nessuno e una volta tanto pensiamo all'utenza brutto pure pensiamo alle persone cioè credo che è lo scopo di 2 miliardi la sicurezza la regione una volontà di fare delle cose anche se è legato lo sai al problema anche del commissariamento che è questa certo cioè pure questo che tra parentesi finisce a ottobre mi pare però bisogna rispettare appunto questi parametri certo questi parametri guarda il fatto di 500 è stato spesso e volte spacciato come un metodo per fare dei tagli in senso economici e di risparmio no poi è stato detto che è una forma di sicurezza ma al di là di quello che si è detto sicuramente la strada non può essere che questa noi in Abruzzo abbiamo 10.000 circa 10.000 nati all'anno avremo 8.000 8 punti nascita bene credo che sia abbondantemente sovradimensionato volevo leggere quel messaggio grazie dottore ha detto cose importanti ma perché fare un nuovo ospedale sul Mona ed è vero senza il reparto con il punto nascita buona giornata Tony perché hanno fatto un nuovo ospedale però sul Mona c'è Avezzano l'Aquila che fanno appunto circa mille parti l'uno e usciamo da questi numeri in realtà due punti nascita però organizzati come abbiamo detto noi come venire con l'autobus che parte ogni 20 minuti non vedo benissimo hanno fatto un nuovo ospedale senza punto nascita non c'è il punto nascita l'ospedale vive solo col punto nascita tra l'altro è anche detto che sono divisi questo punto nascita da osterrici e ginecologie che svolgono anche la cosa se sul Mona c'era necessità ma io tra parenti ce la conosco bene conoscevo il primario non è che sul Mona per sentito dire e anche quello era un reparto è un reparto formidabile ma per esempio può essere in ginecologia nella prevenzione il punto nascita apre un capitolo più grosso che io mi sarei aspettato hanno fatto un nuovo ospedale e non hanno fatto un consultorio familiare nuovo nuovo non è solo l'edificio significa nuovo hanno assunto delle persone organizzate con attrezzature che rende più facile poi va a partorio a Solmono a Vezzano all'Aquila è la stessa cosa sono tutti guarda ma non è che me lo sta a dire per piacere e sono tutte delle persone me li conosco quasi tutti professionisti ottimi medici ostetichi ma veramente e manca un attimo di organizzare e di entrare nella logica che noi vogliamo far star meglio i nostri abruzzesi questo è questo è il concetto cioè preoccuparsi di come come staranno meglio si possono aver fatto degli sbali per cui invece di star meglio siamo stati peggio per alcune cose ma qua dopo diventare ma non è questo il problema però sicuramente l'intenzione è quella di migliorare non di peggiorare e io guarda su questo non solo lo sposo mi batterò e per quello che posso io e poi fare tu no io posso fare tante cose come il minimo parlare con te e avere questa di cui ti ringrazio perché è valida cioè tu sai invece che su questo tanti localismi tante proteste ci sono dei localismi che lo dobbiamo certo è venuto fuori come ma vanno superati perché difendere l'orticello sì dappertutto ma non nel mio giardino l'abbiamo fatto per le discariche perché l'erba del giardino è sempre più verde del vicino del vicino il mio deve essere più verde più verde sì però comunque del resto noi a Giulianova 10 anni 7-8 anni insomma siamo sopravvissuti ci dispiace magari nessuno può dire nato a Giulianova però si poterà fare qualcosa si stava tentando di fare lo registri non dove è nato ma vai nel comune Giulianova e dici è nato mio figlio sarà nato pure a Santomero o a Terro e viene registrato a Giulianova questo ma questo è così è pure quindi non è ma poi veramente l'importante è che sia nato bene perché purtroppo mi fermo qua ma devo un colpo fatemelo dare alle Marche alle Marche una mia paziente mi ha raccontato di come è stata maltrattata proprio in Salaparto ma tu dicevi Maltrattata là dentro è veramente è tornato è di nuovo incinta adesso quindi questo è successo due anni fa circa cioè per dirti che non è questione no ma è andata nelle Marche perché perché probabilmente lei abita non lo so se è Martinsicuro o al Badriatica passa l'autobus ogni dieci minuto un quarto d'ora e ti lascia davanti all'ospedale c'è stato fermato l'ospedale sì e allora io sono capito e invece quindi sarebbe preferito adesso lo farà qui da noi almeno quello che gli sto dicendo perché oltretutto c'è una ventata nuova ma l'hai detto tu hanno rafforzato l'anno scorso spendendo anche dei soldi Sant'Omero no? parte in acqua anche in acqua sì parte in dolore parte in dolore stanno rafforzando Teramo si deve rafforzare il territorio attraverso i distretti sanitari di basi consultori dopodiché l'unica cosa che mi può venire in mente è critico non mi viene ma una cosa mi viene e cioè che indubbiamente in senso territoriale è tutto spostato a nord e quelli cioè secondo me quelli di Pineto di Atria andranno a Pescara piuttosto sì io ti volevo fare una domanda perché siccome l'ospite non è ancora arrivato e allora le approfitto faccio una volta per Giulia Nova perché il 6 maggio verrà presentato al governatore d'Alfonso una specie di una relazione sì sulla situazione attuale dell'ospedale di Giulia Nova e i bisogni dell'ospedale di Giulia Nova sì una relazione di una commissione sanitaria di cui tu fai parte sì relazione però che non avresti firmato non c'è stata l'occasione per firmare ma se non firmare sì no io non l'ho firmato ma questa relazione ma sei d'accordo questo è il punto no il punto è che una relazione ma non è una forma di critica una valutazione che poi peraltro in tutti gli incontri ho sempre fatto presente troppo generica consentimi il termine tra virgolette lamentosa che è un po' quello che la cosa di cui dobbiamo uscire a me mi serve questo a me mi manca poca gente cioè come se sono venuti dei marziani noi lo stiamo dicendo dei marziani ci sono delle esigenze però bisognerà anche trovare un sistema per migliorare credo che il nostro nuovo direttore generale almeno si è mosso in questo senso quindi non so io non ho letto la stesura finale di questo documento che verrà dato il 6 marzo non ho notizia io ho appunto la partecipazione all'ultimo vedremo speriamo ma certo le cose che sono state scritte sono cose necessarie sempre vogliamo dire sempre in tema di sicurezza va bene se mettiamo questo concetto io credo che il concetto mi fermo qua perché stiamo giudendo però e sia quello di avere un obiettivo che cosa vogliamo fare non è di chiedere per chiedere perché stiamo male c'è una domanda facciamola qui poi la chiudiamo è più che normale andare fuori le regioni a partorire visto e considerato che le eccellenze sono dovute andare fuori a lavorare è proprio vero che non si è profeti in patria ai colleghi che sono dovuti andare fuori conosci però su questo in parte sono d'accordo però ricordiamoci una cosa non esiste più il singolo che fa le differenze saranno pure profeti però si dice quello è bravo vado là sono le equip ragazzi questa parola non usiamo l'equip che funziona l'organizzazione conosci tutti il quipo 84 sì esatto bene grazie a te Francia per la conversazione presa anche delle posizioni coraggiose se vogliamo al di fuori del coro su questa vicenda grazie tra poco torneremo con l'altra ottima grazie buon lavoro grazie Italia buongiorno buongiorno andiamo a un tema veloce perché poi c'è un ospite e tu sei arrivata in ritardo io non sono arrivata in ritardo io alle 9 e 30 e 28 ero qui ma chi chi comincia le 9 e 30 deve arrivare un po' prima vabbè ce la parliamo oggi no oggi avevo pensato una bella giornata una bella giornata di primavera ecco parleremo delle depressioni di primavera sì canzoni la voce le abbrassano lei dice che in primavera ci si rinnamora eh che fredda c'era di male perché la chiama maledetta primavera perché perché a primavera ci si rinnamora eh mi sogno erotico eh ma oltre a rinnamorarsi in primavera c'è anche il problema della depressione stagionale eh che tecnicamente si chiama sad la vedo più sad questa mattina mi piace questo quando ti amico la vediamo a parte eccolo va bene vai eccola se per innamorarmi ancora vedi se l'innamora poi c'è tornerà tornerà maledetta primavera maledetta primavera bene bene grazie studio grazie allora eh però si innamora è una cosa positiva perché la chiama maledetta allora la chiama maledetta perché fondamentalmente la primavera come le altre tre stagioni sono soprattutto sono dei momenti di cambiamento dal punto di vista climatico e questo determina anche una problematica dal punto di vista psicologico la patologia di questa dei dei cambi di stagione ha proprio un nome tecnico si chiama sad seasonal affective disorder in inglese cioè un disordine affettivo stagionale ecco un disordine affettivo stagionale vabbè si può chiamare anche in inglese no disordine affettivo stagionale stagionale c'entra sull'erezione no no si no c'entra ecco aumenta anche il desiderio sessuale con le belle giornate aumenta anche nelle donne vero? anche nelle donne si vi chiamate sempre fuori anche nelle donne anche nelle donne aumenta il desiderio sessuale ma se uno e sta con un altro si innamora l'altra cosa no eccetera perché la primavera risveglia ma se è innamorata devi dire così la persona con questa risvegherà ma se è innamorata primavera che importa non importa mica la goggi va lo fa lo fa e fa un'ora è vero? come è che f*** c'era? perché vi non arrivate ecco allora ah quindi rimprovera la primavera che è arrivata la costruzione che praticamente rinnamorassi perché la primavera ha questo aspetto importante con la primavera cambiano i ritmi luce e buio e il cambiamento della diciamo di questi ritmi della luce determina proprio un cambiamento a livello cerebrale del funzionamento cerebrale perché l'aumento della luce fa aumentare la produzione di cortisolo che è l'ormone dello stress e aumentando la produzione di cortisolo aumenta la produzione di serotonina e di serotonina e di melatonina va bene questo? no fa addormentare? no questo fa svegliare la serotonina e melatonina sono quelle cose che servono per dormire? sì allora che cosa è che fa svegliare? il problema è che ti fa svegliare ti mette l'insonnia ti mette l'astenia ti mette il malumore ti mette l'ansia di rilascibilità eccetera come tutta la luce tutto bello perché sta bene perché sta depresso più e peggiorati c'è chi ha una sensibilità alla luce o alla depressione oppure ha proprio una patologia che è la bipolarità ovviamente con l'aumento della luce va in tilt cioè aumentano proprio i sintomi c'è una stanchezza diffusa ci sono i problemi di concentrazione addirittura ci sono dei ragazzi che nel periodo della primavera abbassano proprio il rendimento scolastico cioè vanno peggio a scuola voglio uscire perché non uscire e si abbassa la concentrazione bello per la primavera già dura poco da cui la famosa frase non ci sono più le mezze stagioni falla falla primavera magari la facesse veramente come una volta perché qua si passa da Luca Putt dialetto a come il nostro tecnico visto porta già primavera di Vivaldi porta la maglia con le maniche corte c'è il nostro tecnico e allora vedi tu non porti niente no io porto una camicia ma se quelle di pelle ti sono gettonate ti sono richieste il tuo bravo bravo va anche senza canotta senza canotta bene ma quindi ci possiamo difendere da sto primavera incipiente che crea questi problemi allora innanzitutto si devono proteggere le persone che le donne innanzitutto si devono proteggere poi si devono proteggere le persone che hanno una storia familiare con una sensibilità alla depressione e poi si devono proteggere le persone che hanno già una depressione in Italia soffrono di questo disturbo dai 4 ai 5 milioni di persone cioè ci sono su 55 milioni di abitanti ci sono circa 5 milioni di persone che quando arriva la primavera vanno a modificare la loro condizione umorale quindi questo è veramente molto indicativo è molto più acuto sulle persone che già soffrono di depressione che già soffrono d'ansia oppure persone che hanno già problemi respiratori che ne so chi ha già problemi che ne so da asma allergia allergia ancora di più famoso polline eh polline però questo aumenta ancora di più la sensazione di non avere l'aria di respirare male un altro aspetto interessante è che il ci sono dei riflessi ovviamente no sulla vita quotidiana delle persone perché le persone che soffrono di questo disturbo stagionale fondamentalmente tendono ad avere dei pensieri o dei comportamenti lesivi oppure ad esempio con la primavera si ritirano cioè mentre tutti gli altri le persone che stanno bene tendono ad uscire fuori chi ha invece la depressione tende cioè chi ha una depressione stagionale tende a ritirarsi aumentano i problemi o scolastici per i ragazzi oppure lavorativi per le persone adulte cioè rendono di meno al lavoro sono meno concentrate hanno una minore produttività e addirittura chi fa abuso di sostanze può addirittura intensificare anche aumentare che ne so l'uso dell'alcol oppure fumare di più perché aumenta la condizione ansiosa e di conseguenza le persone insomma vanno in tilt non ce la fanno da un punto di vista proprio psicologico è carino proprio la dinamica che passa in testa allora in generale la persona depressa ha un problema con l'ambiente per cui già fa di suo difficoltà ad entrare in rapporto con gli altri quindi fondamentalmente il depresso prende già la distanza dagli altri pensando a un'ingiunzione interna che io non esisto e tu non esisti ok quindi già c'è questo meccanismo si isola di suo con l'aumento del sole e della vita anche attiva la persona che ha un disturbo d'ansia fa i conti proprio con i limiti di tolleranza verso queste stimolazioni sensoriali perché con l'arrivo delle belle giornate c'è una stipolazione visiva più importante perché c'è più sole ma ci sono anche più colori poi c'è una stimolazione termica importante perché le temperature tendono ad alzarsi e quindi anche la temperatura corporea e poi c'è una stimolazione acustica perché praticamente quando con le belle giornate aumentano anche le stimolazioni acustiche ci sono più suoni nell'ambiente suoni e colori suoni e colori e per una persona che ha un disturbo d'ansia ovviamente diventa difficile fare contatto con tutto ciò cioè aumenta ancora di più la voglia di prendere distanze da tutto questo e il ritiro sociale è una delle prime caratteristiche tant'è che per noi che siamo esperti del settore di solito tra la primavera e l'estate abbiamo un numero più alto di richieste di prime visite perché le persone fanno contatto con i propri sintomi cioè si rendono conto che tutti escono a fare la passeggiata e loro non ce la fanno ad uscire a fare la passeggiata anche i giovani? anche i giovani anche i giovani tra l'altro negli adolescenti gli indici le percentuali degli ultimi anni sono proprio in crescita di questo aspetto depressivo anche di natura stagionale ma fondamentalmente perché c'è una maggiore cultura sulla depressione e quindi le persone si ascoltano di più e ne parlano di più quali possono essere i rimedi? noi questa mattina lavoriamo qui un po' a tempi stretti passiamo subito a dire ai nostri telespettatori che cosa devono fare cosa devono fare allora innanzitutto una valutazione del sintomo cioè bisogna capire quanto il sintomo è forte e intenso cioè se io nell'arco di sette giorni preferisco starmene due giorni a casa ma gli altri cinque comunque esco questo io credo che non è da considerare come un problema grave ma se io su sette giorni sei me ne sto a casa e uno esco quasi per forza è quasi per forza questa invece è una valutazione del sintomo che di un sintomo che ha una sua intensità e che va preso in considerazione in un in un modo più serio diciamo con un esperto quindi la prima operazione è la valutazione del sintomo fatta la valutazione del sintomo bisogna decidere la strada da perseguire innanzitutto io credo che la prima operazione è parlarne con i propri familiari e fare una valutazione dei propri sintomi con le persone che ci sono a fianco e cercare di capire se c'è una ciclicità a proposito quello là di Milano come ho detto l'altra volta lo sapevano aveva già detto voglio uccidere aveva già manifestato quindi tu non credi mai a queste cose improvvise e quindi chi sta vicino la sorella l'aveva detto pure e quindi poi i carabinieri erano fermati e hanno detto meno male che avrei ucciso ancora metabolizzava da tempo ma questo concetto deve entrare ormai è così quindi chi sta vicino alle persone deve capire per primo che cosa sta accadendo facci guarire dalla primavera poi un aspetto importante è quello di cominciare uscire sforzarsi ad uscire perché comunque l'attività fisica lo stare all'aria aperta ma soprattutto fare sport all'aria aperta aiuta moltissimo a decantare l'ansia cioè ad abbassare lo stato d'ansia perché poi un'altra cosa è quella di non spaventarsi cioè un altro aspetto è di non cominciare a fissarsi e dire ma io non ce la faccio che mi sta succedendo quindi non fissarsi non avere dei pensieri ripetitivi su questo argomento e in ultima come ultima diciamo soluzione è quella di ricorrere o a una psicoterapia o all'aspetto farmacologico o ambe due a proprio hai detto prima che avete più clienti di primavera l'estate che d'inverno sì sì sembrerebbe il contrario potrebbe eh no perché chi ha un allora chi ha l'ansia con l'arrivo della primavera lo sente fortissimo la diversità la sente fortissima la diversità e se non si è preso cura dei suoi sintomi a gennaio a dicembre quando l'esempio l'isolamento non si notava poi ad aprile a maggio comincia a vedere che lui è diverso dagli altri e di conseguenza si nota e se ne prende cura ecco questo è quindi la psicoterapia è un valido strumento con le tecniche cognitive comportamentali che sono delle tecniche che ci abitano a ragionare su noi stessi su quello che noi siamo su quello che noi facciamo e a ciò si aggiunge anche l'aspetto farmacologico perché con l'aspetto farmacologico andiamo a contenere i sintomi che si presentano nella nella quotidianità e quindi l'isolamento non aumenta l'insonnia viene contenuta perché se poi cominciamo a non dormire alla fine del mondo perché poi diventa un circolo vizioso i pensieri diventano sempre più negativi brava grazie però ci dobbiamo lasciare ci dispiace va bene grazie ai telespettatori magari se sono interessati lo ripeto lo ripeteremo la prossima volta poi c'è quella cosa che volevi parlare poi il tradimento che è i maschietti no i disturbi psicologici degli uomini prossima volta te l'attendi grazie buona giornata buon fine settimana a tutti anche a voi grazie a tutti buon fine settimana a tutti buon fine settimana Grazie a tutti.